9 dicembre 1990 Nelle prime elezioni presidenziali dirette della storia del paese, il capo del movimento Solidarno Schleck-Wawenz conquista il 40% dei voti e diviene presidente della Polonia. Nelle prime elezioni presidenziali dirette della storia del paese, il capo del movimento Solidarno Schleck-Wawenz conquista il 40% dei voti e diviene presidente della Polonia.